Io penso molto, se io sono colpevole io merito fondo dell'inferno, ma io non posso trapassare tutti questi, mi pare inganni di tutte queste revelazioni secondo me sono frutto di padre Vlasic, lui sa cosa parlare a tutto il mondo, forse lui è un santo e io sono un maledetto sto aspettando la grazia o segno della Madonna per credere, così non posso credere